Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono da buttare via, te lo giuro proprio. Sì, eccolo qua. Anche questo, amiche, vi dico, è bello, grandino. E te li veramente con serenità, sceglieteli, amiche, tranquillissimamente. No, 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 vi faccio vedere gli orecchini. Cari amiche, allora siamo al 40, 97 signora. Io ce l'ho tutti attaccati, tutti e due attaccati. Ma lo so, lo so. L'abbiamo fatto felice lui, così contento si fa tutto il suo soppopera. La soppro. Per un fendente di smeraldo un po' importantino, senza andare a spendere 90. Io approfitto per alzarmi un momento perché ce la faccio più. dimmi, clan. Tanto questi sono talmente grandi. Sì. Dimmi. Guardate che cosa non è. Un domani vi stancate, avete comunque un filo di corallo. Attenzione, corallo naturale. Non stiamo parlando, amiche, di pasta di corallo, bensì corallo. Parliamo ancora di binari, un binario di brillanti per due carati eventi. E abbiamo, amiche, ancora smeraldi a cabochon. Tutti. A questo prezzo, volevo farvelo rivedere perché meritava. Non è stato confermato il 41,89. Sono da portare così, da portare doppie, da attaccare il ciondolo. Quello che volete fare voi. Quindi una è ancora disponibile. 1,590 euro. È meraviglioso. Dalla lunghezza, amiche, della vostra mano. Ma mi raccomando, confermatene uno perché sono, non è cattiva. Facciamo 1,590 euro. Fate tranquillamente, amiche, le vostre richieste. Io sono qui a più completa disposizione, amiche, per voi. Altrettanto, vedete voi, vedete, amiche, voi. Ritiro. 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 Magnifici. Importante, ma vi assicuro che per un gioiello di questo peso non lo è assolutamente. Saliamo. Allora, per le amiche per domani, mi raccomando, seguiteci sul 126, ma anche potete farlo sul canale 80. Il canale 80 è soltanto per lo di, da 1,5, non c'è più, signora, è già stato confermato. 1,5, sì, è quello, è il 4.500 euro, è il 41,73. Si può trasformare in ciondole, mi raccomando. Sì, 4.500 euro, amiche, 4.500 euro. Siamo in chiusura, amiche, se c'è qualcosina da vedere. Amiche, è ciondolo. A 3.500 euro. Vediamolo. Che cazzo.